Se da un lato nel napoletano si attiva il covid residence, una struttura di quattro piani di circa 200 posti letto destinata ai pazienti covid asintomatici che non hanno la possibilità di stare a casa per la quarantena, dall'altro gli ospedali potenziati e convertiti a covid hospital destinati ai pazienti sintomatici attendono ancora una vera e propria attivazione. Secondo De Luca le terapie intensive vanno attivate sulla base delle esigenze concrete perché quando si attiva un reparto di terapia intensiva bisogna organizzare i turni e siccome gli anestesisti non ci sono in nessuna parte d'Italia, sono professionalità preziose, bisogna utilizzarle quando vi è la necessità. Quindi i posti letto sono quelli che la giunta regionale ha programmato negli ospedali modulari ma saranno utilizzati pienamente sulla base delle esigenze. Intanto presso il nosocomio agropolese in questi giorni si sosseguono visite dei vertici dell'asla e disposizioni del direttore generale Mario Ierbolino per l'attivazione di 20 posti letto. Pare qualcosa si stia muovendo dopo mesi di stallo. Da martedì infatti presso la struttura è possibile analizzare i tamponi molecolari eseguiti sul personale medico ed infermieristico che prima venivano inviati al laboratorio di eboli e probabilmente dal prossimo mese di novembre ci sarà la possibilità di processare i tamponi anche per le persone esterne. Buone speranze si prospettano per la struttura ospedaliera visto che ieri mattina sono arrivati anche due infermieri neoassunti probabilmente a tempo determinato sei mesi. Ora bisognerà attendere l'attivazione vera e propria del reparto covid che a quanto pare potrà avvenire per la prossima settimana. È da precisare che dal mese di luglio nella struttura ospedaliera è presente il personale medico pagato in alpi nei reparti aperti come wix surgery, rianimazione e sale operatorie eppure questi reparti non vengono utilizzati. Grazie.